Uccidi, non ti prego Stai zitto, Alex Non sprecare i colpi Posso fare una classifica di amabilità di tutti voi? Aspetta, facciamo un filo Guarda che tu vuoi finire super male Va bene, va bene per me Ok, ho fatto i miei voti Inseriscili pure Che ho fatto? Sto uscendo, ciao Adesso classifica, prego Metteli in fila davanti a me, per favore Vai, in fila Anna, anche tu, eh Arrivo Allora Dal più amabile al meno amabile Vabbè, Anna è la prima Anche se è molto rompiballe Spesso e volentieri Questo potrebbe farti perdere dei punti Quindi è inutile Non lo so, mi stavi antipassio Vedi, però questo qua potrebbe farti perdere dei punti Non ti sposto Perché altrimenti dovrei mettere al primo posto qualcuno Che mi fa un po' ribrezzo Però, tuttavia è amabile Quindi non posso fare di me Lui è amabile Però fa cagare Ma per un secondo Però è pur sempre amabile Ma com'è possibile? Al terzo posto Secondo secondo no Decido di mettere Cico Perché tuttavia è pur sempre Comunque lo so Tuttavia Sono molto appassionato Al posto successivo Decido di mettere Piadina Oh, io sono molto amabile Grazie Ok Poi Qua Stiamo proprio raschiando il fondo del barile Qui Attento dietro, attento dietro Guarda là Ecco Aiuto Lei è più amabile Di Alex Sono appassionato Pure Questa paga Ma tu Non ho con me E' peccato In realtà è stato Alex ad ucciderlo Ok, paga Stai davanti ad Alex Che bello Tu sei il meno amabile Allora Non è giusto però così Appena finisce la live Tu ti cambi il nome di Minecraft Tanto c'è già il trattino basso Sarà Alex Naus Trattino basso Il meno amabile Ok Non è vero Non voglio restare in quel modo Suona benissimo Suona perfettamente Sei proprio il meno amabile